tornando al discorso di ieri ci eravamo lasciati su questa definizione dicendo ma come faccio a riuscire prima che il sistema sia terminato sia finito a volte ancora prima che sia iniziato quindi quando siamo ancora in fase di analisi o di progettazione come faccio a farmi dire dai miei utenti se le scelte che faccio sono valide sapendo che gli utenti non sono spesso in grado di valutare queste scelte ma noi stessi se si chiedessero ma secondo te quel bottone è meglio metterlo in alto a destra o in alto a sinistra rispondiamo più o meno a caso poi magari se fosse da una parte se fosse dall'altra ci accorgiamo che sbagliamo di più sbagliamo di meno lo troviamo più facilmente o meno facilmente quindi abbiamo più o meno difficoltà di percezione oppure più o meno difficoltà di azione però a tavolino dirlo così diventa difficile allora a questo scopo si usano dei prototipi prototipi che accompagnano in qualche modo tutto il ciclo di sviluppo del sistema cioè man mano che il sistema va avanti vedete che qua c'è un asse dei tempi uno possibile poi dipende ovviamente dal flusso di progetto che avete in quel certo punto c'è questo piano dei requisiti documento requisiti pardon ma poi da un certo punto in avanti mentre il sistema va avanti in parallelo si sviluppano una serie di prototipi che sono a fedeltà via via maggiore cioè sono sempre più vicini al sistema finito ma che permettono eventualmente di fare dei ricircoli di progetto tornare indietro delle correzioni in corso prima che sia finito quindi al di là del dei requisiti funzionali che ci sono all'inizio poi conviene iniziare il prima possibile la progettazione dell'interazione e di conseguenza degli strumenti così come quando scrivo un documento o il correttore autografico che mi dice se sto sbagliando oppure qualcuno che lo rilegge per dirmi se si capisce se mancano delle parti se sono le parti duplicate o ambigue e la stessa cosa lo farò sull'interfaccia utente sulla progettazione dell'interfaccia dell'interazione e ovviamente facendomi aiutare da persone che interagiscono con un prototipo e prototipo è un termine molto generale che accompagna tutto il flusso del progetto e per questo è un termine che in realtà racchiude molti tipi diversi di artefatti di oggetti io ho provato a riassumere in questa sorta di mappa che vediamo interattivamente e questi sono tutti gli attributi principali con cui i vari tipi di prototipi si differenziano partiamo da qua lo scopo lo scopo di un prototipo può essere anche qua andando avanti nelle varie fasi del progetto le prime fasi possiamo avere un prototipo che ha lo scopo di valutare il ruolo di un prodotto qui siamo quasi ancora in fase di marketing questa cosa serve a un ruolo a una funzione viene apprezzato dall'utente quindi un prototipo diciamo così con obiettivo ruolo definire se questo sistema che ho pensato che sto progettando sto pensando di progettare che ruolo avrà sarà importante non sarà importante sarà inutilizzato o altro poi c'è invece lo scopo più diciamo così non più importante ma quello più utilizzato anche perché dura più tempo che è quello della valutazione dell'interfaccia cioè una volta che decido che quel prodotto sa da fare perché agli utenti serve man mano che lo produco valuto le modalità scelte per l'interazione dico una cretinata dove sei nato dove sei nato è una cosa che avete scritto migliaia di volte su tanti siti che avete utilizzato o dove sei residente allora uno deve scrivere un comune allora voi preferite i siti in cui scrivo il comune in una casola di testo e basta oppure scelgo prima la provincia e poi dalla provincia occupare l'elenco dei comuni della provincia e allora scelgo il comune da quell'elenco sono due modalità diverse con dei pro e dei contro mi chiedo quale in questa interfaccia quale è meglio come va inserita come vanno gestiti gli errori eccetera eccetera poi se posso diventare anche di altri quindi i vari elementi di interfaccia mi chiedo come vanno inseriti data di nascita preferite scriverla giorno barra mese barra anno preferite avere tre caselle una inclusive il giorno l'altro mese l'altro anno oppure cliccate compare un calendarietto dovete andare indietro cercare vostro anno di nascita quale preferite ma non è solo quale preferite così ma questa domanda è difficile rispondere uno dovrebbe provarlo vederlo valutare e questo è lo scopo di questi prototipi che vanno a valutare proprio i singoli elementi di interazione e poi ci sono ovviamente dei prototipi ormai molto più avanzati che valutano l'implementazione per cui se ho scelto di fare il calendarietto allora quanto veloce con quanto tempo si apre compatibile con i browser funziona bene l'utente riesce a selezionare correttamente e questo dipende molto poi da come è stato anche implementato dai se vogliamo anche dai font le dimensioni gli spazi che sono altri aspetti una volta che ho deciso che la modalità di interazione quello di far compare un calendario beh poi questo calendario si può fare in tanti modi diversi tecnicamente e quindi lo scopo del prototipo quel punto diventa di valutare di validare l'implementazione di quella specifica modalità di interazione che ho già deciso prima essere la modalità migliore rispetto alle modalità alternative che possono servire per inserire quel dato per selezionare quell'informazione qui stiamo parlando sempre di sistemi non completi non finiti faccio dei pezzi e li provo con quello scopo ben definito pezzi che possono andare a coprire o tutte le caratteristiche del sistema oppure alcune caratteristiche specifiche quindi posso avere magari dei prototipi molto più generali incompleti anche poi vedremo che la completezza è una un'altra delle caratteristiche ma che cercano di coprire tutte le macro funzionalità del sistema e questo può aiutare l'utente che lo valuta a farsi un'idea anche generale del sistema farsi un'idea e dare un feedback sulle modalità di navigazione dove trovare le informazioni dove trovare le funzionalità come navigare e spostarsi all'interno del sistema e qui viene chiamato un prototipo orizzontale espanso in orizzontale cioè copre molte funzionalità quell'altra invece con scopo locale con copertura locale ha invece delle oh perdono è chiuso ha invece un approccio più verticale vado a prendere una funzionalità specifica e cerco di andare più in dettaglio su quella è chiaro che servono entrambe probabilmente in momenti diversi all'inizio serve una valorizzazione globale e poi via via che si vanno a progettare singole funzioni entro in verticale più su quelle la finestrella di chat solo quella indipendentemente da dove è messo quale tipo di funzionalità, dettagli, iconcine, se schiaccia l'invio, se schiaccia lo spazio, che cosa succede eccetera questo va accoppiato anche con la fedeltà quanto l'aspetto visivo del prototipo è simile o è vicino a quello che sarà l'aspetto visivo finale del sistema un prototipo ad alta fedeltà è un prototipo che visivamente è quasi indistinguibile sia come aspetto grafico anche come modalità di interazione col sistema finale potrebbe essere un sistema finale finto in cui c'è un sito ma dietro non c'è la logica, non ci sono i dati eccetera ma gli elementi di interazione in menu eccetera ci sono già tutti per contro invece possiamo avere dei sistemi di prototipazione molto più bassa fedeltà, c'è uno schizzo alla lavagna disegniamo la lavagna come pensiamo che possa essere la videata dove mettere i bottoni o su carta o su powerpoint tante sfumature, tante vie di mezzo che vanno dal più distante rispetto al sistema in cui su prototipi a bassa fedeltà mi soffermo sull'essenziale, sui contenuti sulla struttura, sulla posizione poi quando vado verso l'alta fedeltà allora comincia a entrare dentro anche tutta la problematica diciamo tipografica quindi colori, spazi, layout, font abbinamenti, bordini eccetera che ovviamente aiutano sono strumenti diversi in alcuni casi è quasi meglio non avere tanto dettaglio per obbligare l'utente a concentrarsi sull'essenziale e non dire ma sto colore non mi piace sì ma il colore non importa lo decidiamo dopo eh però non mi piace e succede poi così uno si concentra su alcuni aspetti invece tu vuoi valutarne altri quindi lo obblighi a non considerare certi aspetti non puoi dire non guardare quello stai chiedendo una strazione che si strappone nell'interazione allora vi do un pezzo di carta e dici questo qua secondo te cos'è? vediamo poi alcuni esempi fotografati dopo questo fa il paio abbastanza con la completezza funzionale che è un concetto che io ho trovato queste definizioni ma devo dire che rispetto alla copertura si somigliano molto che di fatto va a definire quante caratteristiche e in quale dettaglio queste sono modellate all'interno del prototipo molto simile al concetto di copertura che si era di là l'utilizzo cioè questo prototipo è un prototipo statico in cui vedo delle istantanee dei fotogrammi dell'interfaccia magari stampati o magari me li presentano l'uno dopo l'altro oppure in qualche modo dinamico cioè vedo l'interfaccia che evolve ma evolve in modo predefinito adesso ho un video una serie di slide oppure è un prototipo interattivo che io posso toccare con cui posso interagire già non neanche con il sistema completo ovviamente ma posso già interagire e lui risponde in qualche misura alle mie azioni anche qua ci sono varie quasi tutte queste categorie le elencate dal presto al tardi cioè si inizia con le prime voci poi man mano che si va avanti i prototipi successivi diventano via via più dinamici più interattivi eccetera e l'altra dimensione è la durabilità del prototipo cioè per quanto deve sopravvivere per quanto è utile che viva e possono esserci dei prototipi usa e getta qui sono stati chiamati di esplorazione usa e getta dicevo prima uno schizzo fatto nella lavagna è un prototipo ci si può giocare per un attimino ci si sporca la dita di gesso nel toccare i bottoni poi una volta che abbiamo capito ciò che ci serve a capire la cancelliamo e passiamo oltre e usiamo l'informazione che abbiamo ottenuto per costruire i passaggi successivi oppure ci sono i prototipi cui ho chiamato sperimentali che vengono usati effettivamente per validare le specifiche e quindi vengono usati nel contesto di esperimenti esperimenti con utenti se ti faccio vedere qualche cosa magari lo devo far vedere a dieci persone diverse quindi non lo posso buttare via dopo il primo diventa uno strumento effettivamente di verifica mentre il primo è uno strumento di brainstorming di apertura di scoperta il secondo diventa uno strumento poi di verifica oppure effettivamente un prototipo operativo qualcosa che non ha solo la funzionalità di testare con dei gruppi utenti certe scelte ma diventa anche di fatto quasi il parallelo del sistema e man mano che il sistema evolve il prototipo cerca di avvicinarsi sempre di più questo non è non è strano nel senso che molto spesso sui sistemi complessi ci sono gruppi di lavoro distinti chi lavora sul back end sulla programmazione sulla logica e chi lavora sul front end vanno avanti in parallelo e quindi il front end può essere anche disponibile o evolvere prima che la funzionalità vera del sistema o comunque in parallelo allo sviluppo delle funzionalità vera del sistema quindi questo può accompagnare lo sviluppo vero e proprio ecco sono tutte sfumature diverse che ricadono sempre sotto il concetto qua di prototipo e nella pratica poi stiamo parlando anche di strumenti a volte molto semplici soprattutto quelli nelle fasi iniziali uno schizzo beh questo qua è molto brutto ho trovato in giro un esempio di questo genere in cui si comincia a ragionare su quella che è la struttura del sito non è ancora il prototipo della singola pagina ma è la mappa di navigazione del sito è un primo schizzo che può servire per cancellare correggere ragionare insieme poi a volte una volta fatto questo si cerca di andare più in dettaglio uno strumento che si usa molto è quello dello storyboard un po' come lo stesso strumento che usa chi produce video chi produce cartoni animati in cui definisci una serie di fotogrammi chiave di passaggi chiave è come raccontare a fumetti una storia piuttosto che filmarla allora nel fumetto ci sono le vignette che rappresentano i passaggi principali anche qua i passaggi principali dell'interazione con l'utente la differenza qual è? è ovviamente che in un cartone animato in un film lo storyboard è comunque un elemento lineare cioè queste vignette si succedono in un certo modo mentre qua la successione dei fotogrammi delle videate è dipendente dall'interazione con l'utente quindi vediamo queste frecce del tipo se l'utente clicca qui in questo bottone allora torna lassù se l'utente clicca qui allora torna lassù e così via è uno schizzo nel senso che qui non c'è ancora la grafica però si capisce già che ci serviranno alcuni elementi avranno una certa funzione qui serve un tastierino numerico qua invece non serve e così via quindi cominciamo a ragionare su quali sono i macroelementi che ci servono e quante videate diverse e quali sono le relazioni percorsi tra queste ognuna di queste frecce tendenzialmente è corrispondente a un'azione nel caso duro l'utente seleziona l'utente inserisce l'utente sceglie come faccio sceglierlo beh lo faccio scegliere facendo la scelto cliccando questo bottone ad esempio quindi l'aspetto di interazione va pari passo ovviamente con l'aspetto d'uso questo è un altro tipo di storyboard fatto anziché con carta e penna diciamo così con un grafica pc in cui anche lì vado a a dire quali sono le azioni che mi fanno passare da una videata a un'altra da una rappresentazione a un'altra e quando ho questi strumenti li uso nel contesto di user testing quindi coinvolgo degli utenti faccio fare dei test faccio o inizialmente il gruppo di progetto ma anche possibilmente degli utenti valuto riesco a valutare con questi strumenti la facilità di apprendimento cioè quando un utente che non l'ha mai visto prima vede il sistema no il sistema non ce l'ha ancora vede un prototipo del sistema capisce subito dove deve andare io gli do un prototipo uno schizzo un prototipo di carta e gli dico supponiamo se non è un telefono fai una chiamata sa dove andare o mi dice ma io toccherei lì io sposterai là oppure non so allora se se io so dove andare capisco al volo quale funzione devo attivare lo riesco a capire senza aver ancora realizzato nel telefono nella funzione nel software semplicemente è una funzione dell'interfaccia questa la facilità di scoprire le funzioni l'efficienza d'uso quanto tempo ci mette l'utente a eseguire certe funzionalità quanti passaggi deve fare per ottenere un certo risultato e quanti passaggi fa l'utente non quanti passaggi in teoria potrebbe fare se fosse furbo se fosse addestrato se sapesse che lì in realtà c'è una scorciatoia perché magari per tante funzioni ci sono le scorciatoie ma gli utenti non ne scoprono e fanno una strada diversa allora è un sistema che fa delle cose ma è poco efficiente nell'uso perché obbliga gli utenti non è che obbliga gli utenti ma non fa capire agli utenti che ci sono delle strade brevi e quindi in qualche modo l'utente si vede costretto a fare una strada più lunga allora che quello non è colpa del sistema è colpa dell'interfaccia che non mette davanti in evidenza non invita a usare dei percorsi più facili di altri allora cambiando poco di queste cose riesco a aumentare l'efficienza la produttività poi delle persone la capacità che hanno gli utenti di ricordare le funzioni del sistema la memorizzazione se io ho un sistema in cui le icone sono tutte uguali ogni volta devo andare a leggere e chiedermelo chiedermi che cosa significa se invece io ho anche dal punto di vista grafico oppure un certo tipo di bottone la conferma sempre in alto a destra o sempre in basso a destra allora l'utente memorizza questo pattern ricorrente e può sfruttarlo per essere più veloce se invece sono incoerente non facilito l'apprendimento da parte dell'utente il quale ogni volta dovrà riragionare ripensare sulla funzione dei vari elementi un'altra cosa che è facile da misurare è la frequenza degli errori di solito si chiede agli utenti di interagire con i prototipi ah fai come faresti davanti al sistema prova a prelevare 50 euro da questo banco ma finto e si va a vedere quante volte l'utente sbaglia a volte una metodologia che si usa è quella di chiedere all'utente di usare il sistema e parlare a voce alta mentre lo fa quindi cercare di dire a voce alta ciò che sta pensando dunque adesso qui inserisco il pin poi la conferma sarà ecco potrebbe essere questo così cercare di dire a voce alta i propri pensieri ovviamente questo falsa il tempo di esecuzione perché lo rallenta però permette di capire magari la causa di alcuni errori errori ricorrenti perché tutti gli utenti anziché cliccare sulla conferma non lo fanno pensiamo a l'esempio del Bancomat credo che al mondo esistano due tipi di macchinette quelle che dopo che hai scritto noi abbiamo il Bancomat con codici 5 cifre quelle che richiedono 5 cifre e basta e quelle che dopo le 5 cifre richiedono il tasto verde ma il tasto verde c'è comunque anche se non lo devi schiacciare quindi cos'è che te lo dice se devi schiacciarlo o no provi e aspetti poi se non scapita niente provi a premerlo poi c'è un elemento se vogliamo più indiretto che è quello di soddisfazione a volte quando si fanno questi non a volte scusate sempre quando si fanno questi test con gli utenti a valle di tutto c'è un questionario in cui si cerca di capire cosa è piaciuto cosa non è piaciuto del sistema ovviamente cosa gli utenti vorrebbero modificare vorrebbero insomma migliorare e questo ci serve per aiutarci a rispondere a queste macro domande poi in realtà dentro ci sono tante domande più piccole l'impostazione generale del sito la navigazione come passo da una parte all'altra quando sono su una pagina io ieri vi ho fatto l'esempio del libro il libro è un oggetto che si impara a usare facilmente ma il libro ha anche un verso di lettura unico se voi prendete anziché un libro già un quotidiano da dove comincio a leggerlo ci sono tanti articoli uno sopra l'altro uno affiancato all'altro la figura la didascalia eccetera allora in che ordine voglio che l'utente percepisca le informazioni come gliele devo presentare e poi quali elementi visualizzare visualizzo pochi dati pochi per volta oppure tutti subito e questo è ciò che dobbiamo costruire per prototipi pochino più avanzati ci sono anche degli strumenti ovviamente che ci aiutano a farli noi ne useremo uno strumento abbastanza diffuso ma questi strumenti permettono di creare delle bozze dell'interfaccia e prendono il nome di queste bozze di interfaccia di mockup oppure wireframe wireframe ricorda una cosa messa insieme col fil di ferro no? una griglia dei fili che tengono insieme le cose mockup è un abbozzo come significato del termine di fatto sono quasi equivalenti ma mentre il secondo questo di destra è il tool impostato in modalità wireframe cerca di somigliare il più possibile al prodotto finito quello di sinistra cerca di somigliare il più possibile a qualcosa fatto a mano ma alla fine gli elementi sono gli stessi sono esattamente gli stessi la stessa pagina semplicemente renderizzata con due stili grafici diversi e perché a seconda di che cosa voglio mettere in testa il mio utente userò un aspetto oppure l'altro se voglio che l'utente mi dica guarda che questo qui non è tanto allineato con l'altra perché qui lo percepisce come un prodotto finito e quindi questo è un errore di impaginazione lo percepisco di qua di qua non mi dà tanto fastidio c'è lo stesso il disallineamento ma non mi dà così fastidio perché in realtà è tutto un po' ballerino è tutto un po' fatto a mano sembra fatto a mano vuole sembrare fatto a mano e quindi mi concentro di più su che cosa c'è piuttosto che non come scritto quanto spazio occupa e come è allineato quindi io posso addirittura con questi strumenti poter variare dinamicamente la fedeltà del mio prototipo facendolo sembrare più fedele o sembrare meno fedele rispetto al sistema finale a seconda del tipo di domande che mi sto facendo e questo dicevo con questo strumento che si chiama balsamic che utilizzeremo anche in laboratorio si fa semplicemente cambiare un'impostazione quindi è a costo zero in alcuni contesti sono molto usati anche i prototipi di carta molto comodi per fare le prime esplorazioni di progetto io mi preparo tanti fogli di carta con dei disegni dei mock-up fatti a mano o fatti con un programma di disegno con tutte le videate possibili del sistema e con questo mazzo di carte le presento la prima carta all'utente questa è la home tu dove andresti cosa faresti ah io sceglierei questo allora vedo che cosa sceglie e gli do la videata corrispondente a quella che comparirebbe se lui avesse scelto davvero questo sul sistema che sto costruendo e così via quindi riesco anche a inventare dei scenari molto complessi e valutarli con un costo che è quello della carta è anche veloce da modificare se mi accorgo durante un test che c'è un passaggio che non è chiaro posso provare un attimo solo cambiamo la videata e vediamo se con l'utente successivo con l'utente successivo non si incappa nello stesso problema ecco a questo proposito gli utenti che coinvolgiamo nella fase di test sono utenti che quasi sempre conviene che siano brutto da dire usa e getta perché molte volte la reazione dell'utente deve essere la reazione che che coglie che lo coglie impreparato la prima volta che vedo il sistema che cosa pensa la seconda volta è già stato bruciato perché lui sa già cosa avviene dopo ho già capito gli ha spiegato cosa voleva dire quella funzione quindi riprendere per la seconda volta un utente che ha già visto farlo giocare con un prototipo riprendere un utente che ha già visto una versione precedente di quel prototipo è ottimistico nel senso che quell'utente si comporta meglio dell'utente normale perché per lui non è la prima volta mentre per l'utente normale sarà la prima volta ma questo poi è un aspetto da tenere presente nell'organizzazione di questi test quello che si dice è piuttosto di fare un test con 30 utenti fai 6 test con 5 utenti sono sempre 30 persone ma ad ogni giro hai un gruppetto più piccolo che ti permette comunque di capire un buon numero di errori di progettazione dell'interfaccia li correggi e poi fai un test del passaggio successivo con un altro gruppo di utenti quindi a parità di utenti è meglio fare gruppi piccoli e frequenti piuttosto che un gruppone poi ti sei bruciato tutti i candidati adatti adatti nel senso che abbiamo il profilo di interesse per il tipo di sistema che stai costruendo per il tipo di persone che potrebbero utilizzarlo e allora poi non sai più cosa fare questi sono prototipi di carta uno potrebbe fare un pochino più il sofisticato e questi sono prototipi fatti in powerpoint quindi costruito con powerpoint delle videate più o meno plausibili e poi powerpoint ha delle piccole funzionalità di interazione questi bottoni effettivamente se clicco questi vanno c'è la funzione vai alla slide 32 vai alla slide 18 e così via molto grezzo per carità però già permette di avere una fedeltà maggiore del tipo di dispositivo e permettere all'utente di interagire un pochino di più per carità di interagire su percorsi predefiniti perché se non ci ho messo il link lì quel bottone non fa nulla ma è meglio di nulla c'è già una fedeltà maggiore interagire qui vediamo elementi dell'interfaccia e qui vediamo questi bottoni strani qua sopra che in questo caso sono stati usati per modellare che cosa succede al verificarsi di un evento esterno perché la maggior parte dei sistemi informativi che consideriamo sono di tipo reattivo cioè reagiscono alle nostre richieste ma un telefono squilla quando qualcuno ci chiama non in conseguenza di una nostra azione quindi possono esserci degli eventi esterni che fanno cambiare l'interfaccia cambiare le informazioni visualizzate e non sono in risposta alla mia azione e quindi qua nella pagina iniziale di questo mockup c'è l'elenco degli eventi esterni che possono capitare in qualunque momento e quindi si dice all'utente allora vediamo cosa succede quando ricevi un sms tacca lì e vai a vedere la biblioteca successiva se invece l'utente vuole fare una chiamata ovviamente dovrà trovare il luogo sull'interfaccia utente in cui può fare la chiamata per costruire prototipi di questo genere ci sono in giro molte risorse ad esempio ci sono i colletti stencil sono le raccolte di immagini icone pezzi di pagina da importare in un programma di disegno e giocare di copia in colla per comporre rapidamente un'interfaccia che somigli il più possibile al tipo di prodotto e questo tra l'altro è interessante perché ci fa capire che l'universo dei tipi di controlli cioè di elementi interattivi è abbastanza limitato qui ci sono quelli dell'iOS di un paio di anni fa se non sbaglio e questi sono tutti i tipi di elementi che posso inserire in un'interfaccia normale a meno che non faccia interfaccia strana come quelli dei giochi che chiaramente prescindono dai bottoni soliti però abbiamo i tipi di bottoni le caselle di testo il menu a discesa i gruppi messi qua la tastiera e i contenitori e i bottoni non sono moltissimi probabilmente con 15 tipologie diverse abbiamo risolto tutto quindi qualunque interfaccia va costruita componendo nel modo migliore questi elementi di base ciascuno dei quali nella mente dell'utente è già noto e ha già un tipo di funzione nota quindi dovrei usarlo il più possibile in modo coerente con ciò che fanno le altre le altre applicazioni qui ci sono i nuovi tre livelli architettura di informazione cioè come organizzare le informazioni il layout cioè come organizzare gli spazi come organizzare le informazioni quali pagine ho e come sono collegate tra di loro il layout all'interno di una pagina come uso lo spazio di disposizione quali elementi inserisco in che ordine come li separo come li raggruppo come faccio a far capire all'utente che informazione sto fornendo e che informazione mi aspetto che lui mi fornisca quindi in ogni parte della pagina deve essere facile immediato rispondere a queste due domande cosa c'è qui dentro quale informazione contiene che messaggio veicola e a che cosa serve cioè cosa ci posso fare posso interagire in che modo e se interagisco che cosa ottengo il layout serve a questo a raggruppare gli elementi in modo che sia chiaro gli elementi di base sono sempre gli stessi da solo un bottone non dice nulla il bottone servirà per confermare un'altra cosa che gli ho scritto vicino allora l'organizzazione degli spazi serve per creare queste relazioni logiche tra i vari elementi dell'interfaccia in modo che si capisca in modo coerente qual è l'informazione che viene comunicata e quali sono i tipi di interazione che sono permessi e che cosa succede l'utente deve sapere poter prevedere facilmente che cosa succede dopo che l'interazione è stata richiamata poi c'è il livello più basso che è questo che è chiamato il livello dell'interazione cioè come funziona il singolo elemento livello di cui ci occupiamo relativamente poco perché forse più il lavoro di chi progetta le interfacce grafiche di chi ha deciso che il bottone acceso o spento è fatto così on off io devo dire che continuo a avere difficoltà con un bottone di questo genere no? on off sapete no? c'è sui telefoni l'ho scoperto poi per tocchi questo lo sposti e viene off io ho sempre il dubbio se l'off che vedo è perché lui adesso è off o l'off che vedo è che se tocco l'off diventa off è lo stato attuale o è l'azione che posso fare quella che viene scritta lì per fortuna ci sono i colori che ci aiutano però hanno fatto una scelta e questa scelta non banale è stata rinforzata perché da anni siamo abituati a vederla ma chi uno lo vede per la prima volta ha questo dubbio è on perché posso metterlo on oppure mi scrive on perché lui è on è uno contrario dell'altro e sono entrambi plausibili quindi non è molto fortunata come scelta secondo me a quel punto è molto più fortunata la casellina di spunta che o è spuntata o non è spuntata e se è spuntata la tocco si dispuntizza e se invece non è spuntata la tocco si spunta lì non ci sono ambiguità quindi ci sono elementi che sono più fortunati di altri dal punto di vista dell'interazione ma noi come detto di fatto organizziamo le interfacce assemblando elementi che già ci sono e quindi il loro funzionamento diamo per scontato che sia quello imposto nel sistema operativo non andiamo a a inventarcene degli altri intanto questi vari elementi di solito hanno un nome collettivo che è una parola un po' strana che si chiama widget quindi tutti questi elementi della pagina precedente sono widget in italiano si usa cazzilli o oggettini è una sorta di gadget ma più piccolo il widget grafico il widget è una casella di testo è un bottone è una casella di spunta è un menu eccetera ecco per avvicinarci a costruire l'interfaccia ci dobbiamo chiedere ma io per rispondere alla domanda ma io cosa ti devo mettere lì un bottone una carta di testo un'immagine un menu allora chiediamoci prima che tipo di interazioni l'utente può avere con il sistema ma cosa può fare l'utente su una pagina su una pagina lui può leggere o guardare e quindi leggere un testo vedere delle immagini vedere delle scritte vedere delle frecce analizzare se io ho un elenco di voci non lo sto leggendo ma lo sto analizzando studiando guardando se ho l'elenco alfabetico degli studenti non mi metto a leggerlo come fosse una poesia ma lo scorro andrò a cercare certi elementi andrò a riordinarlo secondo altri criteri quindi un conto è informazione che deve essere letta un conto è informazione che pur essendo magari testuale anch'essa ma va fruita in modi diversi perché mi interessa non la lettura sequenziale ma la possibilità di analizzarlo vederlo in modi diversi per cui ad esempio se io devo avere un elenco di nomi io li voglio vedere come una tabella non come elenco puntato l'elenco puntato non è qualcosa che si presta ad essere analizzato o letto in modi diversi se invece ho la tabella con le colonne è più facile perché ho esplicito la struttura del dato che sto mostrando ad esempio e in alcuni casi le colonne possono essere ordinate l'utente può inserire quindi le prime due azioni erano relativamente passive ci sono dei dati e l'utente in qualche modo li deve assimilare da qui in avanti vediamo invece le azioni attive dell'utente inserire cosa? inserire del testo testo libero inserire dei numeri inserire delle date poco altro testo a una riga due righe cinquanta righe secondo che devo inserire una mezza pagina scrivere una mail da mezza pagina o se scrive semplicemente dire il suo nome e l'aspetto grafico sarà molto diverso una riga oppure mezza pagina se l'utente deve inserire i numeri devo facilitarlo nell'inserimento dei numeri quindi se inserisci i caratteri che non deve devono essere segnalati un caso particolare dell'inserire è lo scegliere scegliere significa inserire un valore ma da un elenco predefinito di valori possibili dove sei nato? dove sei nato? può sembrare una domanda aperta dimmi dove sei nato ma in realtà la risposta è vincolata che ne so 2000 comuni che abbiamo in Italia è solo quelli quindi è una scelta ci sono molti modi per far scegliere un utente un valore da un elenco di valori possibili detto così è brutto scegli da un elenco di valori possibili perché ci viene in mente un elenco completo di tutti i valori possibili ma non è vero io posso dare le funzionalità tipo l'autocompletamento cioè man mano che scrivo le prime lettere lui cerca di completarmi il nome vedendo quelli che iniziano in quel modo oppure è una scelta gerarchica scelgo prima la regione poi la provincia poi il comune allora mi presenta tanti elenchi parziali oppure lascio una scrittura libera lui scrive ciò che vuole ma poi alla fine se non è se non corrisponde a un nome giusto lo coloro in rosso e scrivo a fianco il comune non esistente è un modo un po' più cattivo di far scegliere perché tu devi scegliere una voce da un elenco ma io l'elenco non te lo faccio vedere sei tu che devi indovinare la voce giusta però la differenza tra inserire e scegliere è che quando io inserisco inserisco un valore qualsiasi che piace a me la scelta è un valore che deve per forza essere uno tra un elenco predefinito quando ti prenoti un esame devi scegliere l'esame a cui ti vuoi prenotare tra quelli che hai nel carico didattico non è che lo puoi decidere tu sono verbi diversi che poi cerchiamo di usare coerentemente nei casi d'uso e di scegliere coerentemente i widget grafici che supportino meglio quel tipo di interazione cercare cercare o ricercare significa avere voler trovare una voce tra un insieme anche molto ampio di voci conoscendo alcuni criteri il valore di alcuni elementi di questa voce l'obiettivo è quello di trovare normalmente quando cerco qualcosa mi aspetto quasi sempre di avere un risultato il risultato migliore ok tu vai in segreteria e dici ho un problema con l'esame allora aspetta che cerco la tua scheda mi dici come ti chiami o mi dai il numero di matricola dammi alcuni dati la matricola non me la ricordo vabbè dimmi il cognome che cerchiamo quindi avendo informazioni parziali su un elemento si vuole ottenere l'informazione completa di quell'elemento che è diverso anche se spesso sono abbinati dal filtrare c'è un elenco potenzialmente molto lungo ma io voglio limitare il numero di elementi di questo elenco al sottoinsieme che rispetta un certo criterio un certo insieme di criteri quindi ciò che voglio è comunque sempre vedere l'elenco ma ridurre il numero di voci sto cercando qualcosa da comprare allora andiamo a vedere tutti i prodotti di quel tipo non so ancora se ce ne sarà uno o quale sarà l'uno le caratteristiche di quello che voglio comprare ma voglio restringere la mia ricerca il mio elenco alle soli prodotti che hanno certe caratteristiche in fascia di prezzo tipologia di oggetto marca fornitore quello che volete allora applico dei filtri cioè delle condizioni che limitano l'ampiezza dell'elenco sembrano molto simili perché quando faccio una ricerca di solito mi compare un elenco dei candidati possibili ma il motivo l'obiettivo che ha l'utente quando inizia una ricerca e quando invece decide di filtrare un elenco è diverso io faccio una ricerca per trovare l'elemento che so che c'è ne conosco alcuni dati e quindi lo trovo un filtro è ancora voglio esplorare delle alternative alternative che però si somigliano per alcuni criteri poi c'è un'azione più semplice la conferma conferma che sì o conferma che no conferma affermativa ok i dati inseriti inserisci il dato ricercalo vai avanti oppure la conferma negativa annulla l'operazione esci da questa pagina non mi interessa non voglio inserirlo cancella eccetera inserisci un dato cancella un dato esistente e così via queste azioni di conferma sono quelle che si mappano quasi sempre sui bottoni o sulle icone che se selezionate fanno succedere immediatamente una certa cosa e spesso poi cambiano contesto spesso sono accoppiate funzionalità di navigazione ecco navigazione tra l'altro si può anche pensare a navigazione interna alla pagina qui stiamo smuovendoci purtroppo verso cose complesse magari che usano i vari tab per di fatto simulare l'esistenza di più pagine sovrapposte in cui posso passare da una all'altra quando le informazioni che voglio gestire non ci stanno tutte in una pagina sola qui ci sono varie modalità per se devo visualizzare 50 elementi in una pagina non ci stanno li visualizzerò tre gruppi di 15 o 16 o 17 e in qualche modo devo dare all'utente la possibilità di passare da un gruppo all'altro fargli rendere conto che in realtà lui sta vedendo solamente una parte parziale allora posso vedere una parte sola poi avere due bottoni sotto che si chiamano avanti e indietro oppure delle linguette in alto dei tab per cui l'utente può scegliere da uno all'altro o la combinazione di queste cose la selezione è un'altra azione se è un elenco posso selezionare due o tre voci che poi vorrò cancellare che poi vorrò stampare che poi vorrò vedere in dettaglio oppure una forzione di testo tutte le azioni legate con lo spostare il drag and drop lo swipe dei dispositivi col tocco il drag and drop col mouse eccetera tutte azioni diverse che sono associate a intenzioni diverse dell'utente e queste azioni si mappano sui widget quindi io devo costruire l'utente ha un'intenzione vuole fare qualche cosa con i dati se ci pensate in questo elenco il soggetto no il soggetto no perché sono verbi all'infinito ma l'oggetto sottinteso è i dati non è il bottone non è l'interfaccia ricercare un dato leggere un'informazione analizzare un elenco confermare un'azione un dato un valore inserito quindi l'utente pensa e vogliamo che pensi in termini dei dati inseriti delle informazioni inserite non di ciò che c'è sul video ovviamente per fare in modo di illudere l'utente che sta interagendo con i suoi dati dobbiamo usare degli elementi concreti che sono gli elementi di interfaccia utente i widget di interfaccia utente ma se sono messi bene fanno la fine del telefono cioè l'utente li usa senza accorgersi che sta pensando di usare un certo elemento ma sta pensando nella sua mente dal punto di vista percettivo di lavorare col dato anziché con l'interfaccia e questi sono alcuni widget possibili che poi si declinano adesso vediamo qualche regola in più si declinano questi sono ad esempio l'utilizzo dei widget principali in Windows XP bottoni elenchi tendine menu eccetera così come ci sono quelli di Java se c'è qualcuno di quelli che hanno fatto JavaFX l'anno scorso alcuni se li ricorda quelli di iOS sono alla fine questo rotore qui strano è un oggetto che non ha controparte nel mondo desktop perché è un oggetto che è stato pensato e ottimizzato per interazione tattile col finger sarebbe corrispettivo del menu a discesa apri la tendina viene giù l'elenco delle voci ne scegli una però anziché avere la tendina che si apre e si chiude hai diciamo così scusate l'illusione di avere una ruota che sta ruotando che stai facendo ruotare con un criceto io li trovo particolarmente brutti questi elementi però perché occupano tanto spazio e alla fine impegnano più lavoro che se non dovessi inserire con un tastino numerico quelle quattro cose ma evidentemente non sono stato tra gli utenti campione loro vabbè qui vedete che graficamente sono diversi ma il tipo di widget ce lo ritroviamo quasi uguale nei vari tipi di ambienti con chiaramente specificità ecco io voglio fare un esercizio di lettura per ora io prendo un programma che conoscete tutti Word è una cosa che serve per scrivere e vabbè queste iconcine eccetera a me piace tanto questa finestra qua le proprietà del carattere perché c'è di tutto c'è già c'è tutto no? quello che abbiamo quasi tutto quello che abbiamo detto e tra l'altro ci sono dentro degli errori madornali allora c'è tutto cosa? partiamo dall'alto beh c'è una finestra guardate la divisione degli spazi qui c'è una cornice e sotto fuori della cornice ci sono dei bottoni in particolare in basso a destra vediamo ok e cancel nostri cari vecchi amici allora cosa vuol dire questo? il layout ci sta dicendo che questo ok si applica a tutta la finestra non conferma un singolo dato conferma tutto ciò che vedi nella finestra come faccio ad essere sicuro? perché c'è questo bordino l'ok è fuori dal bordo non c'è bisogno di spiegarlo quindi qualunque e tra l'altro mi dice anche qualunque cosa io modifichi qua dentro finché non premo questo ok qua sotto non viene modificata questo è chiaro non posso capirlo diversamente quante volte invece in altri siti in altri programmi modifichi delle cose ma si è già modificato dove è l'ok dove è la conferma a volte si chiama salva quindi partendo dall'alto poi scendendo di dettaglio quindi livello più alto una finestra che ha un blocco grande davanti e due bottoni sotto che annulla e poi ce ne sono altri due che sono messi a sinistra in modo quasi da non dar fastidio che dicono vabbè queste sono robe avanzate non sono frequenti da usare è una convenzione la firma tu sul foglio la metti in basso a destra quindi questa è la zona per chiudere per finire finire affermativamente o negativamente questa zona qua è una zona che di solito non viene usata quindi lì ci mettono cose che non richiamano l'attenzione da questo punto di vista è progettata bene non ho idea se nei paesi in cui si scrive da destra verso sinistra il bottone ok l'abbiano messo da quest'altro lato ma al sospetto di sì c'è qualcuno qua che usa l'ebraico l'arabo come lingua no perché lì ovviamente le convenzioni divisive si innestano sulle convenzioni tipografiche culturali per essere efficaci poi dicevo è una finestra con un contenuto e dei bottoni questo contenuto è diviso in due aree in due schede o tabs a seconda che le chiamiamo l'italiano o l'inglese e vabbè siamo abituati a usarle quindi immediatamente riconosciamo che cosa dobbiamo fare per passare da l'una all'altra ci aspettiamo che passando da l'una all'altra cambi completamente questo contenuto una cosa che non mi quadra tanto non mi piace tanto è perché questa zona preview sotto non cambia pur cambiando tab sembrerebbe fuori che le due linguette le due schede non la contengano oppure la contengano tutte e due in una zona che si chiama preview è casualmente identica questo non è chiaro non è evidente dobbiamo aggiungere un'informazione noi beh che questo qua sarà l'anteprima di come salterà fuori il testo quindi mi aspetto che se modifico il testo di qua cambiando scheda continuo a vedere modificato io forse avrei preferito metterlo al di fuori delle schede quindi o sopra o sotto chiudere le schede poi mettere il preview sotto e poi il bottone ok ancora sotto l'hanno fatta così poi cosa c'è in questa scheda ci sono delle scelte da fare scelgo il font da usare oppure inserisco il font che voglio usare quindi se voglio usare il times inizio a scrivere e mi aiuta a scegliere la voce in realtà posso sia scegliere qua che inserire perché se io mi invento un font un font bellissimo ma non esiste lo posso comunque inserire dice strano è deciso così perché magari quel font esiste ma non l'ho installato su questo computer in particolare poi lo stanno domani oppure quel documento lo mando a un collega che invece lui ha il font installato e quindi lo vedrà è chiaro che a quel punto lui userà qua qualche cosa che non sarà la grafica giusta ma non si arrabbia se inserisco qua un valore non valido un valore non compreso nell'elenco quindi questa è una combinazione abbastanza avanzata tra inserimento e ricerca e selezione idem qua vedete che la posso definire la misura ma ci sono solamente alcuni valori 13 non c'è forse perché porta male ma posso scegliere un font da 13 no? certo semplicemente non c'era in questo elenco il fatto che il testo sia libero qua sopra mi potrebbe far capire che io posso scegliere qui anche un valore che non sia compreso nell'elenco mentre invece queste tendine sotto sono molto più esplicite devo scegliere per forza una di queste voci non posso inserirle una diversa quindi pur sempre dovendo scegliere da un elenco graficamente hanno scelto qui di usare un menu a tendina una combo box qua invece di usare un elenco scrollabile per carità è anche vero che questo elenco può essere molto lungo e quindi per trovare la voce giusta può essere utile fare un po' di filtro di fatto questa è un'operazione di filtraggio se scrivo la lettera G mi filtra mi fa vedere solamente gli elementi che iniziano con la G qui invece gli elementi da cui scegliere sono pochi quindi posso pensare di guardarli tutti e poi ci sono le caselline sotto che sono caselline di spunta cosa mi dice una casella di spunta mi dice che ciascuna di queste caselle può essere selezionata o meno e se selezionata applicherà un certo come si chiama effetto che si sommerà agli altri effetti questo è ciò che mi dice questa interfaccia purtroppo sta mentendo questa interfaccia perché queste sette caselline di spunta o in inglese checkbox così mi stanno dicendo siamo sette checkbox tutte indipendenti una dall'altra e quindi ci sono 128 combinazioni diverse in cui ci puoi impostare siamo indipendenti l'una dall'altra questo è ciò che dice il layout la realtà non è così perché ad esempio queste tre sono incompatibili se io seleziono la terza mi toglie la prima e la seconda sono incompatibili se seleziono uno mi toglie l'altra ma la terza no vedete che ho sbagliato già l'ho letto male stavo per dire queste tre sono incompatibili perché ho visto che le prime due erano incompatibili allora immaginavo le ho messe vicine continuerà il ragionamento voi potete dire ma è ovvio perché o è tutto in maiuscolo o è in maiuscoletto sono due cose diverse vabbè sono due cose diverse non farmele vedere così in modo che sembrino compatibili sembrino selezionabili insieme così come anche queste di sinistra le prime due sono tra di loro incompatibili le seconde due tra di loro incompatibili ma sta cosa la scopriamo dopo o la scopriamo pensando vabbè se è un pedice non è un apice capito ma già devo leggere e capire don't make me think col cavolo e poi non mi aiuta a capire che sono di realtà sono qua ci sono tre gruppi di due e una separata allora bastava far poco bastava far poco io penso di averlo ancora installato open office che la stessa cosa la fa meglio non c'è mai nessuno che si sia impiccato perché le caselline di spunta non sono coerenti ovviamente però è un design che è incoerente con i dati l'interfaccia mi dice certe cose poi in realtà si comporta in modo diverso open office per fare la stessa cosa anche lui usa lo stesso schema generale una finestra con vari tab e i bottoni di conferma sotto quindi lo schema generale è lo stesso ho più tab perché ho forse più funzioni ma soprattutto ho meno elementi per ogni tab quindi sono più semplici questo è praticamente identico all'altro compreso il preview sotto però se vado qual era il problema il problema là era lo sbarrato l'apice il pedice e il maiuscoletto e qui mi dice sbarrato singolo doppio e mi fa una scelta qui è chiaro che non posso prendere lo sbarrato semplice lo sbarrato doppio contemporaneamente non mi verrebbe neanche in mente apice e pedice sono qua in posizione guarda normale apice pedice cosa cambia? cambia la scelta ovviamente del widget word forse perché pensa che i suoi utenti siano troppo stupidi ha deciso di usare del check box per qualunque cosa vedete che qui ci sono solo tendine e check box basta open office ha scelto di usare anche un altro elemento che è quello del bottone tondo detto radio button sapete perché si chiama radio button? perché siete giovani non lo sapete non vi ricordate ma le radio radio transistor quelle con le batterie grosse così che si usavano per ascoltare la radio avevano tendenzialmente sopra dei bottoni per cambiare banda di frequenza fm am onde lunghe cose di questo genere questi bottoni erano fatti in modo che se premivi uno gli altri saltavano su meccanicamente c'era una molla con lo sblocco allora quando si è emulato questo comportamento in informatica si sono chiamati questi radio button cioè come i bottoni delle radio di una volta che se ne premi uno gli altri tornano su quindi può essere se ne è solo uno premuto per volta ok? o i registratori a cassette di una volta che quando schiacciavi stop saltava sul play quando schiacciavi avanti eccetera questo è il comportamento allora per convenzione questa è una pure semplice convenzione grafica i radio button sono rappresentati da pallini tondi mentre invece le checkbox qui le usa sono rappresentate da quadrati caselle di spunta qui dove usa le checkbox effettivamente le usa bene perché sono tutte qui ce ne sono 4 le posso selezionare tutte e 16 le combinazioni possibili a piacere sono tutte le combinazioni sono compatibili sono sensate dove ho invece delle combinazioni incompatibili tra loro viene usato lo strumento giusto che è o il radiobatto che l'utente si aspetta che siano mutuamente esclusive oppure la tendina che dal punto di vista semantico è equivalente al radiobatto cioè in entrambi i casi ho un elenco di voci tra cui sceglierne una ogni volta che trovate una tendina la potete pensare di sostituire con una serie di bottoni radio o viceversa fa lo stesso lavoro però graficamente magari suggeriscono cose diverse quindi ogni elemento grafico ha il suo scopo e parla ci sta dicendo qualcosa che cosa ci dice e a che cosa serve ci sta dicendo come può essere usato e che cosa succede se cerchiamo di usarlo noi dovremmo avere interfaccia in cui l'utente solamente a guardare l'interfaccia sa dove può toccare dove non può toccare dove ha senso e che cosa succede se lo fa la parola è facile da dire ma poi nella pratica si vede che anche i prodotti figuratevi il testing che non ha ricevuto Word venduto in milioni di copie eppure ha questi chiamiamoli errori di usabilità magari sono errori consapevoli qualcuno ha deciso così però è un non seguire le convenzioni che invece sono universalmente riconosciute tra l'altro quello che mi fa pensare è che per fare questo lavoro qui di usare dal punto di vista della programmazione fare due checkbox mutuamente esclusive è più difficile ci vuole più lavoro che non usare un radio button che lo fa da solo se metti due radio button si escludono da solo semplicemente è il sistema operativo che le fa escludere invece qua devi mettere dei listernel sulla punta sulla spunta eccetera qui c'è più lavoro da fare per fare una cosa che è un pochino più incoerente quindi giocateci con queste cose io adesso ho fatto vedere un'interfaccia di un programma desktop ma la stessa cosa sui siti web provate a farci caso a volte quando dovete compilare qualche cosa chiedetevi e dovete fare provare a fare anche l'esercizio di 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 cioè non leggete il testo o se potete impostatele in una lingua che non conoscete e senza leggere le parole chiedetevi cosa potete fare se è chiaro cosa potete fare e che cosa serve quindi se noi se noi proviamo a rovesciare il discorso è bravo a criticare la microsoft provaci tu provaci tu cosa vuol dire vuol dire ragionare sul processo che passa dall'azione dall'azione che voglio offrire all'utente all'insieme di elementi di interfaccia quali e messi dove devo offrire messi dove non ho non ho non ho dato sufficiente attenzione al luogo però vedete che quando ho dei delle interfacce complesse ci sono sempre fondamentale la spaziatura gestire gruppi di elementi un gruppo separato in questo caso da una lineetta con un titoletto che spiega cosa c'è qua sotto qui abbiamo due livelli di aggruppamento in questa finestra di dialogo il livello dei tab è all'interno di ogni tab o dei gruppi in questo caso sono separati da una riga verticale in questo caso da una serie di righe orizzontali non è molto coerente e così via in questo caso l'hanno aggiunto in fondo quindi non aveva gruppi da però l'uso dello spazio dei gruppi serve a far digerire un pezzo alla volta qui ci sono molte informazioni contate quante caselle ci sono quante informazioni possibili ci sono se le vedessi tutte in unica videata mi perderei invece qualcuno ha fatto un lavoro di organizzazione concettuale perché la rotazione è insieme all'apice pedice e non è insieme che ne so all'ombreggiatura perché qualcuno non è che li metti a caso dobbiamo ragionare dire va bene li dobbiamo raggruppare come li raggruppiamo quali si somigliano di più su alcune cose secondo me hanno avuto dei buoni risultati tipo chiamare posizione questa cosa qui font effects secondo me è un po' come dire non sapevo cosa dire è come chiamarlo altro altre cose oppure impostazioni avanzate aggiuntive perché è un po' misto un po' una miscellanea queste cose qua quindi non è non sempre si riesce al 100% perché la lingua deve essere sotto font e il colore deve essere sotto effetti non è facile però questo è un lavoro la prima metà organizzare l'informazione cosa va dove e come lo raggiungo la seconda parte una volta che l'ho deciso divido organizzo gli spazi all'interno degli spazi organizzo l'interazione dei singoli elementi tutti e tre questi passaggi poi molti casi sono ovvi noi dopo l'intervallo proviamo a vedere alcune regole che ci aiutano a scegliere quali widget è meglio utilizzare in quali casi seguendo le convenzioni e poi vediamo anche lo strumento che ci permette di creare dei mockup l'ultima vi chiudo sottolineando la parola che ho usato nella frase precedente le convenzioni l'usabilità è fatta di fare come fanno gli altri un sistema che usi le stesse convenzioni sembra quasi assurdo o sembra quasi che debba essere il contrario per essere migliore dei miei concorrenti devo fare come loro per avere un sito più usabile e quindi avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti devo però usare le stesse convenzioni di interazione qui parliamo dell'interazione ovviamente fare come loro per quanto riguarda l'interazione devo usare le stesse convenzioni di interazione che usano gli altri e non inventarmi qualcosa qualcosa di diverso anzi dovrei inventarmi qualcosa di meglio nel senso di far scomparire ancora di più rendere ancora meno visibile la mia interazione e magari offrire qualcosa di più sul servizio perché ma chi si inventa modalità di interazione strampalate è quasi sempre perdente perché gli utenti sono abituati su gli utenti per bravo che tu sia gli utenti spenderanno sul tuo sito l'1% del tempo che spendono in generale online vuol dire che il 99% del tempo sono abituati a certe convenzioni che sono quelle degli altri quindi se non vuoi che quando arrivano sul tuo sito abbiano delle difficoltà e debbano imparare dei modi di lavorare diversi da quelli degli altri fai come fanno gli altri su tutti i siti dove c'è una cartola di testo c'è sempre l'autocompletamento sempre è noioso eppure fanno tutti così è giusto che facciano tutto così se qualcuno non lo facesse cominciate a pensare che non l'ha caricato bene ma perché non completa no? e che ne so sto pensando alle reti sociali richiamare una persona si fa mettendo il cancelletto davanti al nome invece l'hashtag lo fate col simbolo di cancelletto no della chiocciolina o il cancelletto deve essere costato tanto a facebook usare il cancelletto in termini di marketing di immagine perché era quello distintivo di twitter però gli utenti quando tu cominci a vedere che i tuoi utenti lo stanno usando anche se tu non lo supporti ti accorgi che forse è meglio supportarlo quindi ci sono certe modalità di interazione che per l'utente sono normali e quindi non ha senso andare contro non puoi pensare a meno che tu non sia monopolista per cui i tuoi utenti usano solamente il tuo sistema allora imponi le regole che vuoi ma richiede un training maggiore quindi è importante sempre andare a capire quali sono le convenzioni stabilite ce n'è una che non mi va giù di convenzione che secondo me è l'icona più sfortunata del decennio che è questa android ma anche chrome cosa vuol dire quest'icona è il menu impostazioni è bruttissima l'hanno sostituita unilateralmente all'altra che non ditemi come disegno ma questo sarebbe un ingranaggio prima fino a l'anno scorso da un anno e mezzo fa impostazione uguale ingranaggio adesso la google ha deciso che impostazione uguale quella cosa lì che dovrebbe nelle loro intenzioni richiamare cosa secondo voi un elenco di voci quando vai nel menu di impostazioni di android e di OS è un elenco di voci una dopo l'altra in giro lo chiamano icon hamburger intervallo e di